Ciao ragazzi, benvenuti e benvenuti sul mio canale, io sono Magnus, ritorniamo sempre qui con Rainbow Six Siege Mi fa piacere che vi sta piacendo questa serie, naturalmente come al solito non dite come se avrò a mettere un bel pollice in su, un bel commento e un bel mi piace Ma prima di andare avanti a domenici di capo come al solito ai saluti e partiamo in successione con Fortino764 ed Enzo Vitale Bro, spero che questa avventura vi stia piacendo Ok, ci andiamo naturalmente alla ricerca della prossima classificata, utilizzando magari un nuovo personaggio, vedremo un pochettino Ok, ci becchiamo con fine E vediamo un po' eh Sperando più che altro che... Ah, che bello, qualcuno già abbandonato? Speravo che non sia della nostra squadra Allora Ok, giustamente della nostra squadra Come al solito ci va sempre di gran culo, eh Continuo a pensare che bisognerebbe forse crearsi uno squadrone Comunque, vabbè Mi sono ben... Ah, meno male, dai, almeno giochiamo in 4 contro 4 E che palle Eh, aspetta qua Ancora 5 secondi No La posizione delle bombe è sicura Ok, qua è tutto chiuso Vabbè, ci stai tu Non riesco a trovare la position giusta Ok, di qua siamo un pochettino però troppo sguarniti, eh Poi ci fregano Forse è meglio di qua Dai Non ci sono Ma... Ci hanno già individuato Che culo Ciao Ancora La squadra d'attacco ha trovato una bomba Mi sento... Ah, ok, stanno di qua, eh Non li vedo però, eh Ma stanno sopra Oh Oh Manco, ma manco Quanto cavolo dobbiamo... Aspetta, eh Aia Una trappola ha funzionato, eh Ha funzionato la trappola Aspetta Non ce la faccio a rompere da là Aia Aspetta Ah, sta là, sta là, aspetta Uno Uh, due Uh, alla grande Grazie, eh Molto gentile Grazie Io ho salvato la vita E quindi, giustamente Ci ha ringraziato Questo sta sopra Ah, è salito Ha fatto il giro Bravo Non lo vede, non lo sento È sceso No Ok Vittoria alla difesa Buono così, dai Prima partita l'abbiamo vinta Di solito ci va sempre male Bravo, ragazzo Abbiamo giocato bene, eh Una trappola ha funzionato, eh L'ho detto che funziona Allora Qui ci potremmo Beccare Aspetta Eh sì Perché Thatcher l'ho preso Però vi dico la verità Non so se ci conviene Non lo so ancora utilizzare bene Ok Ok Certo Attenzione qua, eh Ah, stai tu dietro, eh Aspetta, vediamo se riusciamo a beccare qualcuno qua sotto No Qua non c'è nessuno Facciamo una piccola cosa Aspetta Non vedo nessuno, eh Interiamo insieme Vai Io non darei le spalle là, eh Attenzione Qua non c'è nessuno Che fanno? Sparano? Se entri, entri Se non entri, non entri Ah Stanno sparando di qua, eh Non è che ho capito bene Ok Ok, da qua non c'è nessuno Da destra, da destra Ahia Sta uno che sta schiattando Attenzione Perfetto Non ho capito neanche chi mi ha preso, eh Non l'ho capito Era un pulse Ma cosa mi ha preso? Non l'ho capito come sono morto Ma non l'ho capito come sono morto Fatti vedere Fatti Difensori eliminati L'ha ucciso l'altro? Messa di sì Ok, bravo Bravissimo Alla schiena l'hai beccato Un bel colpo di tosse E vai Che disattiviamo anche te 2 a 0 Meno male che nessuno ha abbandonato ancora, eh Allora Andiamo sempre di frost Andiamo sempre di frost Le trappoline Funzionano sempre Un'altra la mettiamo qua Se arrivano Da fuori Non si vede una mazza Qua l'abbiamo messa Ne tengo ancora un'altra Vabbè Io direi Restiamo qua dentro Ci ripariamo La squadra d'attacco Non ha ancora trovato una bomba E restiamo qua Dai Sì Meglio restare qua Oh Forse sono arrivati dall'altra parte Ah Stiamo di là Occhio La squadra d'attacco Ha trovato una bomba Aspetta Che cavolo stanno Abbiamo beccato qualcuno Con qualche trappola Pensa Aspetta che li sento Alle spalle Alle spalle Porca miseria Alle spalle Ma da Dove ci ha beccato Ultimo nemico rimasto Eccolo Eccolo Ragazzi L'ho individuato Vittoria alla difesa Nemici eliminati E l'abbiamo beccato Qua la nostra fantastica trappola Ah 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 Eccola qua Tac Oh io la adoro Prosto La adoro La adoro Scusate Madonna Ok Ultimo Ultimo round A questo punto Potremmo anche Apportare Per Fuse Se ci va bene Riusciamo a fare Una bella mucchiatella Ok Allora Questi stanno qua Attenzione che qua Ok Niente Non abbiamo beccato niente Qua non si può mettere Una mazza Attenzione che Questi ci attaccano Da qua Ecco Vai Ci prendiamo da noi Mazza Stanno lanciando 50.000 Bombe Cambiamo eh Perché se no Ci attaccano Aia Ragazzi Piano piano Troppa fretta Perché tutti Quanti all'interno Attacchiare Non ci dovrebbe essere Nessuno Ok Siamo in superiorità Ah qua si mettono anche sopra Attenzione Potrei mettere Una carica grappola Ma non ci conviene Perché se no Rimane un nemico Aia Un operatore alleato Rimasto Aia Siamo rimasti da soli Ok a questo punto Rischiamo Mettiamo Una fantastica Carica grappola E vediamo Non l'ho beccato Ah Grazie per averci L'ho indicato Cazzo Non la possiamo Mettere La carica grappola E qua No Non si può Mettere Dove sta Oh Sta Sta caricando Sta caricando E vai Andiamo Alla grande Ok Abbiamo fatto Una buona partita Ci è andata Veramente Di culo Vabbè Così Mi diverto Anche se abbiamo Giovato in 4 contro 4 Ma adesso Do niente male Naturalmente Come al solito Il video Come sempre Mettere un bel pollice Su Un bel commento E un bel mi piace Fatemi sapere La vostra Soprattutto Vi ringrazio Per i consigli Perché Anche con i merini Mi avete aiutato Un casino Detto questo Spero come sempre Cos'è di un'inizio Mi chiede sempre Commentare Non ci vediamo Nel prossimo video E bye bye